Gli atleti del Giro d'Italia corrono su strade chiuse al traffico in massima sicurezza. Chi si mette in sella nel tempo libero o si allena, invece, condivide la sede stradale con le automobili e gli incidenti capitano. La campagna lanciata da ACI in queste settimane punta a una maggiore presa di coscienza dei rischi che corrono gli utenti vulnerabili. L'iniziativa Rispettiamoci accompagna il Giro dal 2019 e ragiona sui numeri relativi agli incidenti stradali. Nel 2019, a livello italiano, un decesso su due è riferibile a pedoni o ciclisti. Quest'ultima categoria ha avuto un triste aumento del 15,5% rispetto al 2018. Nessun ciclista morto nel Bellunese, dove a livello generale si sono verificati 435 incidenti stradali con 10 vittime, ma nei 39 coinvolgimenti di biciclette ci sono stati soltanto feriti. Per quanto riguarda i pedoni, si sono verificati 45 investimenti con una vittima. La campagna di ACI si concentra sui dati dell'incidentalità e sulla diffusione delle buone abitudini alla guida, quelle che consentono di prevenire gli incidenti. Puntiamoci giovani, commenta il presidente del club di Belluno, Lucio De Mori, perché se da una parte saranno gli automobilisti di domani, dall'altra costituiranno un esempio virtuoso per le famiglie e gli amici. E poi c'è il tema degli spazi dedicati. ACI chiede ai territori l'estensione delle piste ciclabili e dei percorsi per i pedoni, citando come esempio positivo quello di Cortina con i suoi 700 chilometri di percorsi dedicati a mountain bike e e-bike, un bike park a Socrepes rinnovato per mettere i sentieri ancora più in sicurezza e ovviamente la ciclabile Calalzo Dobbiaco.